SIGLA 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 Ora sei sotto il mio controllo. Ricorda, sono un androide. SIGLA Dalli. Ah, deve essere il casco. Cosa? Oh! Per voi, questa è la fine Il mio intelletto di dodicesimo livello è troppo per gli eroi della Terra Ragazzi? Ragazzi? No, ancora Come fa Brainyac a controllarli? Stolto insignificante La tua forma fisica verrà obliterata Gli umani sono ripugnanti Gli un'altra Cosa Gli un'altra Pegui Un'altra Non avete la minima idea di chi avete di fronte. Non l'avevo previsto. Dove sono andate? Lanterna Verda è... morto. L'esplosione l'ha ucciso? Non sappiamo se è morto. Sarebbe un peccato. E così dolce e carino. Ho paura che potrebbe succedere anche a lui. Su, ragazzi. Ce la faremo. Senza problemi. Lo spero. Ma insomma, che cosa succede? Oh no, guarda. Superman sta cadendo. No, ancora. Oh no. Povero Superman. Ammettiamolo, c'è qualcosa di strano in tutti loro. La luce delle lanterne li ha colpiti e l'emozione dominante dell'anello è aumentata. Provin, prendi il comando. Devo salvare Superman. Un attimo, lasci la responsabilità a me. Vedi altri all'altezza del compito. Se Superman si schianta su una città miniaturizzata, molti si faranno del male. Fai atterrare questa nave. Wonder Woman, vieni con me. Flash, chiudi il varco dietro di me. Solo se alla fine posso tenermi la nave. Sì, sì. Come no. Superman è ancora privo di sensi. Inseguiamolo. Come ho potuto lasciare che accadesse? Sono arrabbiata! Non riusciremo a prenderlo in tempo. È proprio seccante! Tieni duro, Wonder Woman. L'abbiamo quasi preso. Allora... Ragazzi, avete sentito? Qui comando io. Per prima cosa... Qualcuno sa pilotare questo affare. Mi piacerebbe tanto provarsi. Sì. Grazie. Qualcun altro sa come pilotarla? Se non avessi paura di beccarmi un virus, potrei collegarmi alla nave. Andrà tutto bene. Dai, provaci. Sì. Ragazzina, ragazzi. Non c'è catena che tenga un guerriero di Talagher. Grazie.